E' una farsa il tipico spettacolo estivo che fa ridere e non pensare, si intitola La cucina del libero inganno, l'ultima opera teatrale per la regia di Giorgio Villa e la scrittura di Antonello Capodici che sarà messo in scena martedì 30 alle 21 all'Anfiteatro della Chiesa San Pietro. La premiata ditta ritorna insieme dopo qualche anno di separazione con la storia di Isabella che svolta nella vita, pubblicando un libro di ricette, dunque è la cucina e le estremizzazioni degli ultimi anni che tengono viva la trama dello spettacolo. Una cucina un po' particolare che non oso dirlo nemmeno perché altrimenti svelerei i segreti di questa cucina. La cosa bella invece è che oltre ad essere una farsa che è molto molto allegra è che noi ci siamo riavvicinati ad un nostro concittadino ormai famoso che è Antonello Capodici che per noi ha scritto questo copione che è esilarante e noi ci stiamo dentro bene e quindi lo ringraziamo. Devo dire che anche nella regia ci ha dato delle buone dritte che faranno di questo spettacolo uno spettacolo vero, ecco uno spettacolo esilarante. Quindi ci sarà tanto da ridere? Sì, conviene che si portano un pannolino, così evitiamo poi così, vanno tutti da ridere sì, pochi personaggi ma come dire buoni e tutti in piena regola non vanno altro che le tappe lungo la scena, il lungo e il largo quindi come dire non è mai vuoto lo spettacolo, è sempre pieno, pieno, pieno. Beh, direi che il copione, la farsa che ha scritto Antonello ci dà la possibilità un po' a tutti i personaggi di essere veramente comici sono sei caratteri praticamente essendo proprio la farsa tipica italiana. Nel mio caso io questa volta sarò il ragioniere lo martire, Benito lo martire, già il nome è un programma diciamo in un mondo dove oggi diciamo la paura maggiore per chi ha delle finanze è quella di evadere e il protagonista della nostra farsa si affida al ragioniere lo martire per salvargli diciamo il salvabile e quella sarà la sua rovina. L'Accademia dei Guitti inoltre sabato 27 metterà in scena lo spettacolo Twist sempre all'Anfiteatro della Chiesa San Pietro per devolvere il ricavato in favore di Chiara Cumella.